Ed eccoci qua. Un disastro totale in casa mia. Tutto sotto sopra. Adesso ci mettiamo a posto. Buongiorno a tutti. Questi giorni mi sono permessa qualche giorno di riposo, non ho fatto niente. Infatti ho la casa sotto sopra. E niente, oggi facciamo le pulizie. Non posso scappare. Prima di tutto cambiamo le lenzuola. Buongiorno a tutti. 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 ho finito scuzzino ma non c'è problema ci metto a un gocino di posto qua Grazie a tutti 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 e a tutti Grazie 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 a tutti e a tutti Grazie 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 a tutti